Sera a tutti Gorgiotti e Sera Capo, volevo chiederti, anche io sto provando a giocare a Baldur's Gate 3 ruolando nei panni di un PG, l'unica cosa è che non trovo motivazioni per andare a infilarmi ovunque con il risultato di non livellare e sviluppare il personaggio, come posso fare consigli? Frega il tuo personaggio. Molte persone fanno l'errore di pensare che Baldur's Gate 3 sia D&D, non è D&D. Per quanto sia la cosa che più in assoluto si avvicina a D&D e rimane comunque un videogame, ergo mancano tutte quelle dinamiche che ti mette il master in mezzo, che è un puttanaio, perché in D&D D&D il master c'ha i cosiddetti hook di trama, cioè mentre i personaggi vanno in giro, gli emette l'arpione, l'uncinetto, se i cazzo di protagonisti abboccano parte la subquest, parte la storia, partono le scelte, tutte quelle robe lì. In Baldur's Gate questa cosa ovviamente non si può fare, perché in D&D il master se magari hai missato una quest a Napoli te la rimette a Catanzaro, te la rimette a Roma, te la rimette in qualsiasi posto. Quindi in Baldur's Gate che cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio, come ho fatto in realtà anche con Oga, andate ad infilarvi e a spippolare ovunque, poi quando vi trovate mid quest o all'inizio della quest, fate le vostre scelte di roleplay. Fregate appunto il vostro personaggio, perché fregandolo appunto lo fate inserire in quelle robe, e ripeto, alla fine è un videogame, diciamo è fisico, è limitato. E anzi Baldur's Gate questa cosa la gestisce anche bene, perché magari tu esplorando la palude vai dalla zietta, non te ne frega un cazzo della zietta, ci avrà sicuramente una risposta al te che non te ne frega niente della zietta. Quindi spippolate in giro e fregate un po' il vostro personaggio anche di roleplay, perché tanto lo deve far dopo, il problema è farlo entrare nel roleplay. Grazie a tutti.